Iniziamo l'attività vera e propria di concerti, tornare qui nel cuore della città, appunto nel Chiostro di San Lorenzo, a riabbracciare anche se poco pubblico. Un concerto emozionante che ha scaldato i cuori per troppo tempo senza musica dal vivo, quello dell'orchestra da camera di Perugia, il Chiostro della Cattedrale di San Lorenzo, con Angela Hewitt al pianoforte e Enrico Bronzi direttore, promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica Onlus, musiche di Wolfgang Amedeus Mozart.